Cinque giorni, al massimo una settimana, per eliminare uno degli ultimi scarichi fognari che sversano direttamente a mare sul litorale del comune di Salerno e liberare una spiaggia storica come quella di Santa Teresa. L'amministrazione del capoluogo ha voluto anticipare una parte del più ampio progetto di riqualificazione della renina del cuore antico di Salerno, ampliando ulteriormente la spiaggia già cresciuta negli ultimi anni. Via Libera alla demolizione dei manufatti in cemento e quindi all'intercettazione degli scarichi fognari provenienti dal centro storico che saranno incanalati nel vicino collettore Consal per raggiungere il depuratore nella zona industriale. Rimarrà soltanto il sistema del troppo pieno come nel vicino torrente Fusandola. Tempi certi e rapidi per consentire ai salernitani di usufruire a pieno della spiaggia e per liberare spazio prezioso in vista dell'inizio dell'ormai classico torneo di calcio di Santa Teresa tra gli appuntamenti fissi dell'estate nel capoluogo. A settembre poi l'intervento di riqualificazione vera e proprio che entrerà nel vivo. Il progetto prevede l'eliminazione degli attuali gradoni in cemento con una struttura in legno marittimo e l'abbattimento delle barriere architettoniche. La spiaggia sarà dotata anche di bagne e docce pubbliche ed abbellita con palme ed altre piante. Contemporaneamente sempre a settembre inizieranno anche i lavori del terzo lotto per la salvaguardia del litorale cittadino. 15 milioni di euro per continuare l'opera avviata nella zona di Passena fino al Marina d'Arechi con una serie di pennelli e banchine per preservare la costa in vista del ripascimento vero e proprio. L'obiettivo del Comune resta quello di dotare Salerno di un unico fronte di spiaggia da Santa Teresa a Ponte Cagnano, 7 chilometri di arenile per cambiare volto a Salerno e fornire, come ha detto De Luca questa mattina, nuove occasioni di sviluppo economico. Dopo i turisti invernali intercettati grazie alle luci d'artista, alle installazioni luminose del periodo natalizio, Palazzo di Città punta ad incrementare le presenze nei mesi caldi, superando il paradosso salernitano che vede una città di mare non sfruttata turisticamente d'estate, questo proprio a causa della mancanza di spiagge e della qualità non eccezionale delle acque costiere.